Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Maria Carmela D'Urso nasce a Napoli nel 1957, prima figlia di Rodolfo D'Urso, originario di Laurenzana, in provincia di Potenza, e di Vera Pentimalli, originaria di Sante Ofemia da Spromonte, in provincia di Reggio, Calabria. Punto. Rimane orfana della madre il 23 agosto 1968, ha soli 11 anni, ha cinque fratelli, Daniela, 1960, ed Alessandro, 1965, nati, come lei, dal primo matrimonio del padre, e Riccardo, 1970, Fabiana, 1973, ed Eleonora, 1975, nati dal secondo matrimonio del padre, con Vanda Rendi, donna che Barbara considera la sua seconda madre. Trascorre la sua infanzia a Napoli fino ai 19 anni. Quando parte poi per Milano, per tentare di entrare nel mondo della moda seppur contro il parere del padre, con il quale i rapporti si inasprirono. Grave lutto per pomeriggio 5, è morto Gianni Tramontano, storico autore della trasmissione di Barbara D'Urso, ed è stata proprio lei a comunicarlo in diretta ieri. Volevo salutare insieme a voi un nostro amico, un autore che è stato per tanti anni nelle nostre trasmissioni, e che da un po' di tempo si era allontanato. Si chiama Gianni Tramontano, che stanotte ci ha lasciato.